Salve a tutti Davito Pancella, siamo a Roscigno, la perla del Parco Nazionale del Cimento Palliniano Alburni. Siamo con i signori, come vi chiamate? Il Macenico. Lei? Campegliano. Lei? Cremante. Che state qua, state al fresco, ma perché le persone devono venire a visitare Roscigno? Perché è bellissimo. Siamo dietro al comune, questo è il comune. Sì, quindi qua siamo dietro al comune, qua c'è il comune. Perché andiamo a visitare Roscigno le persone? Perché devono venire a visitare? È un paese fatto da strada, è un paese nuovo. Tutto la ospitalità, gente ospitalia. Questi vecchi, prima, già era una via, poi basta un bimbo anche passare. Quindi ora ci sono tante strade, ma tanti prodotti tipici, pur cosa mangia buono, è vero? Una domanda, quanti anni avete? Secondo me è 60, 62 e 63. Quanti anni avete? 95 anni, invece lei? 80 giorni. Quindi è terra di longevità, è quasi di passare alla fine del nostro territorio, quindi fa la festa a cent'anni, poi cent'anni, quasi usa dire poi cent'anni, sì? Altri cent'anni ancora. Facciamo un saluto a Roscigno, forza Roscigno, saluti a Roscigno e visitate la nostra terra perché trovate gente genuina e prodotti tipici e soprattutto abbiamo tanta voglia di futuro in queste anni. Ciao!